Buongiorno Buongiorno Tutto pronto? Tutto pronto Meglio quest'anno, eh? Ci bacia un po' di soli Ma se pensiamo all'anno scorso, eh? Bene, eh Saluti Ciao, ciao Bene, bene Allora, sei contento? Non è come l'anno scorso, eh? L'anno ci abbiamo i suoni che ci bacia Do Pienso secar Turcine e sono le contagi che è venuto in più e di chiama più in trossi e di chiama più in trossi Ci sta sempre in tempo, ci vediamo in fondo la teglia. Scandieno! Un saluto a tutti i ragazzi del gruppo per 6-2-7. Va bene? Benissimo! Ok, grazie! Un saluto a tutti i ragazzi del gruppo per 6-2-7. Avanza! S bathroom. La secatura reale è un belore, in fondo la facoltà è! Un saluto! Benissimo! La facoltà è un'altra gioca è un'altra gioca. Ma io l'ai assegurato a commentar. Minuto in fondo il gruppo per 5 ozze. Sa la gioca di canale. La facoltà è un'altra gioca. Inizio a un'altra gioca. Guarda la gioca di canale. Ma è un'altra gioca di canale. Ci cresciuta è un'altra gioca di canale. Ma! Ho! Come! Vi asciutto! La giovani!